Amici appassionati di Football Manager, siamo pronti ad andare ad affrontare il Bari Un Taranto che vola insieme al Foggia, un testa a testa super emozionante Siamo già a novembre, quindi tra poco arriveremo al Giro di Boa Un bel like, non ci sono in iscrizione prima di cominciare Partiamo subito, perché c'è tanto da fare I dirigenti sono in est, sono in brode di giugiole La dirigente ritiene che tu stai facendo un lavoro incredibile Che tu sia chiaramente il professor giusto per questa panchina Beh, c'è credo Allora, come detto, oggi andremo ad affrontare Bari, Monterosi e Messina Allora, il Bari è al quinto posto, il Monterosi penultimo posto E il Messina è a 15 punti, 14esimo posto Ora, dobbiamo battere il Bari sia per una rivalità sportiva Sia per dare conferma della nostra potenza a livello di testa della classifica Sperando che nel frattempo il Foggia vada a mollare un po' la presa Perché davvero non ne perdo una quest'altra E noi stiamo andando bene, però pure loro non è che stiano andando peggio Quindi, detto questo, ci possiamo vedere direttamente per la partita contro il Bari Siamo in casa, quindi ci aspettiamo anche grande apporto di pubblico E un grande aiuto dei nostri tifosi Dai, ragazzi E allora, ci siamo Scende in campo la nostra classica formazione Con l'unica eccezione di Franchino nostro Che va a prendere il posto di Marsilli Che purtroppo è leggermente infortunato Quindi cerchiamo di mettere giocatori solo al 100% Confermiamo Dai, ragazzi, una partita che vale doppio Vai la partita Dai, allora Mignani, l'allenatore del Bari Allora, ma noi sui fianchi Voglio una vittoria che allunghi la nostra striscia positiva Stavolta non abbiamo ottenuto l'effetto sperato Tempo addirittura burrascoso All'Erasmo Iacovone 14 gradi Tempo burrascoso Vabbè, lo dite voi Mi sembra un po' un Paradosso, però Mazzo, oh il Foggia Va a sfiorare il gol Pitco Il lancio lunghissimo Prede di Ferrara Attenzione, Ferrara Giovinco Belloc Il lancio per Staraniti Troppo lungo Ricci va a chiudere Terranova Di Gennaro Ricci ancora sulla sinistra Gigliotti Gigliotti avanza Di Gennaro Mallamo Anche il Bari Che comunque sa il fatto suo Quando si tratta di palleggiare Mallamo Addirittura Verso il portiere Ancora il Bari Di nuovo ci riprova Mallamo Il filtrante per Belli Il tiro dalla lunghissima distanza Il nostro Antonino è rimasto immobile Però Sembrava abbastanza pericoloso Ancora il Bari Andiamo a domandare di più Perché Insomma Saraniti Va a lottare su questo pallone C'è Gigliotti però All'indietro per Pitco Terranova Attenzione Sbaglia Labriola Ne può approfittare Labriola Ne approfitta Sì Valerio Labriola 1-0 Bari Scusate 1-0 Tanto Trentottesimo minuto Si chiama Aplitco Plitco Labriola E va a infilare Perché sti nomi sono Minuscoli Serve un binocolo Per guardare Allora Finisce il primo tempo 1-0 Benissimo Mani sui fianchi Avete fatto molto bene Però Possiamo far meglio Eh Tomassini Diabì Belloc Giovinco Schiuso Pacilli No No Pacilli Mio Pacilli Pacilli Mio Ancora zero tiri Per il Bari Ecco Arriva proprio il primo Per i Galletti 5-1 Sessantacinquesimo Iniziamo Allora Io direi Italeng per Saraniti Che sembra Non della partita oggi E mettiamo anche Falcone Per Giovinco Vai Settantottesimo Ok Allora Io direi Marsilli può farsela Ormai 10 minuti Può anche farseli Santarpia Santarpia Per Pacilli 85 87 88 Diamo Istruzione di perder tempo Ormai gli ultimi minuti 93 94 Va benissimo ragazzi Va benissimo 1-0 Questo è stato il Massimo risultato Con il minimo sforzo Abbiamo visto poche azioni Importanti Ma Quella che ci serviva L'abbiamo vista Va bene così Ben fatto ragazzi Vinciamo anche il derby Quindi la dirigenza I tifosi 10 gol consecutivi Abbiamo sbloccato anche Il trofeo E niente Il Taranto Il Palermo Non mollano Non mollano manco per niente Perché vedete Siamo sempre là Il Catanzaro Per lo meno Adesso è a meno 9 E niente Però se questi Non perdono mai C'è poco da fare Ora siamo contro Il Monterosi Che sulla carta Sembra essere Una trasferta Veramente agevole Dovremmo andare a vincere In modo Abbastanza elastico Quindi Ci avviamo Verso la partita Speriamo anche Di recuperare Qualche Infortunato E speriamo anche Che o Bari O scusate O Palermo O Poggia Vadano un attimino A rallentare Perché se no Stare costanza Per tutto il campionato Non è proprio Il massimo Siamo pronti Per la partita Contro il Monterosi Torna Marcelli In cabina di regia Arriva Prelec Lì davanti A dare un po' Di respiro Al 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 buon Saraniti Quindi confermiamo La formazione E si parte Ah c'è anche Mastromonago Che purtroppo Ferrara È Squalificato Non abbiamo Terzini destre Di ruolo Purtroppo Comunque D'Antoni Vai Spogliatoio Mariusi Fianchi Godete la partita Giocate come sapete Sì effettivamente Potrebbe essere Dovrebbe essere Anzi sufficiente 10 minuti Ancora nulla Proprio Zero tiri Ferrara Giovinco Ancora per Ferrara Marsili Giovinco Marsili Labriola Giovinco E vabbè Il primo gol Subito Dopo 16 minuti Primo tiro Primo gol Tira a giro Di Peppino Nostro 1 a 0 Contro il Monterosi Vai 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 Andiamo avanti Andiamo avanti Dai Il Foggia che sta a fa' Dov'è? Zero a zero Oh Dai Ve prego Turris Ti supplico Ti scongiuri Di Paolo Antonio La mette dentro Or che si va lontano Perché Pacilli potrebbe partire In contropiede Due contro due Pacilli 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 C'è Prelec Che è fuori gioco Però mi sa Questo era comunque fuori gioco Comunque si va avanti Vabbè Prelec Sbaglia Due tiri Per il Monterosi Che adesso è ancora in posto Su spalla con Tartaglia Costantino Tensione Bravo A chiudere Antonino per Benassai Ancora per Antonino Allarga a destra Per Mastro Monoco Che sta giocando in una posizione Non sua Allarga per Pacilli Può puntare l'uomo Tra l'altro Turris Bravi Stanno a fare il miracolo Dai ragazzi Ecco però noi dovremmo andare Almeno a siglare il 2-0 Per essere un po' più tranquilli Va a battere proprio lui Proprio Marsili E niente Il palo esterno Perfetto Ok Finisce il primo tempo Allora Continuate così Siamo felici di quello che abbiamo visto Prelec Subito un'azione importante Inizio Secondo tempo Marsili Jorge Silva Il lancio Tonetto Buglo Borri Di Paolo Antonio Simonelli Costantino Benassai Bravissimo Il nostro Bonucci Avanza Pacilli Allarga perso Giovinco Troppo lungo il lancio Valentini Ferrara Avanza sul lato di sinistra Ancora per Giovinco In mezzo C'è Pacilli No La palla Resta lì a danzare Sulla linea Mentre la Turris Ancora in vantaggio Attenzione a Tartaglia Non possiamo non Approfittarne Meno male Meno male Domandiamo un attimo di più Ferrara Ancora Siamo alla ricerca Spasmodica Del secondo gol Prelec Però purtroppo Non sta facendo Proprio un gran lavoro Labriola Prelec Ancora per Pacilli Il lancio Verso Giovinco Sul fondo Ancora in mezzo Per Diabì Niente Molto imprecisi Questa partita Molto imprecisi Sì vabbè 11 tiri Un import Giochi Padre Che sulla carta Attaccava Porca miseria Oh grazie Hanno pure vinto Ah bene Io credevo Che questi fossimo noi Benissimo Il Foggia va addirittura A vincere Alla fine 2 a 1 Ottimo E questo rende Sempre il tutto Molto più difficile Ma per adesso Andiamo a sfidare Il Messina E cerchiamo Un riscatto Dopo questo Brutto pareggio Il Palermo Può vincere Ale Perfetto Di bene in meglio Torniamo in campo Con la nostra Classica formazione Marsili Saraniti Che vanno a riprendere I propri posti C'è anche Tomassini Che va a riprendere Il suo posto Come terzino destro La vittoria È inutile dirlo In questo caso È obbligatoria Adesso Dopo il brutto pareggio Contro la penultima In classifica Ma dobbiamo andare A vincere per forza Benissimo E Zio Capuano E Zio Lino Capuano L'allenatore del Messina Stringi pugni Siamo favoriti E voglio che giochiamo Come tali Vai Forza ragazzi Tomassini Che rientra Pacilli Sbaglia l'appoggio Damian Sarsi Puttini Labriola Saraniti Oh Va bene Dopo tre minuti Dai Dai So So No Voglio domandare di più Questa la voglio vincere Almeno 6-7-0 Dai Non perché il Messina Anche questo è un mio derby personale Però Per riprendere un po' Il ritmo Dov'è il Tail Foggia Sta giocando No credo che abbia già giocato Perché qua non lo vedo E ha pure vinto Mi sa No mi sa che forse ha pareggiato Vabbè lo vedremo dopo Levante Germinio Si credo abbia pareggiato Perché era 38 Quindi l'ora è 39 Pacilli Attenzione Il lancio è lunghissimo La spazziamo Ma c'è Carillo Che va a riprendere palla Fofana Damian Marsilli Bravissimo al recupero Saraniti Che può avanzare Adesso tutto solo Il tiro dalla distanza Non inquadra la porta Maledetto lui Maledetto Si infatti ripassiamo in testa Ferrara Marsilli Ancora per Ferrara Poi faremo i dovuti calcoli A fine partita Però Saraniti Pacilli Il tiro dalla distanza Niente Anche stavolta Non inquadremo la porta Dai ragazzi Porca puttana Porca Sistemate Fatevi una convergenza Sti piedi storti Che avete Va E sempre però Antonino Per Benassai Marsilli Germinio Conate Damian Vukusic Per Germinio E non si possono Fa 40 tiri E un gol Su Sarsi Puttini Carillo Ancora Il Messina Che riconquista Palla Con Balde Orge Silva Benassai Marsilli Riconquistiamo Palla Nuovamente Marsilli Il grande Giro palla Del tanto Però non troviamo Spazi Pacilli Vediamo Il filtrando Adesso per Saraniti Che c'è Andrea Saraniti Mi sento meglio Adesso Si che ci siamo Adesso Si che ci siamo Bellissimo Qua La regnitela Di passaggi Del Taranto Pacilli Poi un filtrante Perfetto Per Saraniti Che va A siglare La sua Doppietta Personale Il Palermo Che fa Non c'è Neanche qua Vabbè Non si sa Che stanno A fare Ok Mani in tasca Finora abbiamo Fatto molti Tiri Nello specchio E la cosa No l'ho fatto Non l'ho spremuto Ah ok Non l'ho spremuto Ok Scusate Scusate Un tiro Solo del Messina Zero tiri In porta Quando siamo Al 51esimo Giovinco Ferrara Labriola Per Giovinco Sotto il 7 Via Via L'avevo detto Di cattiveria Questa la dovevamo vincere Di cattiveria Dovevamo tornare La macchina da gol E i killer Sportivi Che eravamo Il Foggia Scende addirittura Al terzo posto Adesso il Palermo Si rifà sotto Guardate che bagarre Che c'è l'intesa O nel Taranto In prima posizione Poi i siciliani E gli altri pugliesi A 38 punti Il Bari È a meno 8 Per il momento Ah scusate Sì io parlo Parlo Però i cambi Effettivamente Allora Prelec per Saranidi Poi Falcone per Giovinco I soliti I soliti Poi Belloc Qua per la Briola Possiamo provare Anche i civilieri Qua per Il buon D.B. E Italeng No Italeng L'abbiamo già messo Prelec E basta Sì Sì direi basta Va bene così 87 88 Niente Tomassini Marsili Civilleri Prelec Niente Traversa Perfetto Tre minuti Mancano uno Niente Ancora un'azione Marsili La palla si perde Tra le braccia di Fusco Che va Ferrara Sarsiputini Orgasilva Antonino Ancora Però il Messina Che a questo punto È la ricerca Del gol Della bandiera Sarsiputini Per Carillo Ancora Matese Puttini Vukusic Bravo Marsili Che va a recuperare Palla Con Con convinzione Tomassini Ancora Verso Pacilli Tomassini Marsili Ancora Per Franchino Nostro Verso Falcone Che è lo sgambetto Amico mio E che ti pare Che non ci vedo Va a battere lui Il buon Pacilli Centrale Proprio Senza rischiare Senza alcun rischio 4 a 0 Va benissimo L'avevo detto Ragazzi Questa la volevo vincere Di cattiveria Ed è così Che abbiamo fatto Una gran bella Vittoria Bravi Ragazzi Bravi 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 Ok Allora Continuiamo Con l'imbattibilità del tanto 5 partite di fila Senza perdere Allora Allora Calendario Vediamo prima Le prossime 3 partite Che vedranno Vibonese Monopoli E Latina Allora Vibonese Vibonese Dove è la Vibonese Non c'è Vedè classifica Monopoli 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 Non c'è Ok Settimo posto E l'altra colera Ma lo so scordato Ovviamente Vibonese Monopoli E il Latina Il Latina Che è il 17esimo posto Va benissimo Allora Classifica Torniamo Nuovamente in testa Quindi altro Ribaltone Vediamo che ha fatto Il Palermo Vava vinto Mentre il Foggia Il Foggia Il Foggia Qua con la Turris Mentre Ha perso Proprio contro il Palermo Giustamente Ok Quindi Rosso Poi magari Cercheremo anche Di vendere Qualcuno Che non utilizziamo In rosa Per alleggerire Un po' Le spese Come ad esempio Che ne so Possiamo vendere Un De Maria Che non ha mai giocato Un Zullo Un Tarpi Un Civilleri Un Loliva Questi non hanno mai giocato Quindi magari potremmo Alleggerire un po' Le casse Detto questo Fatemi sapere la vostra Ovviamente qua sotto In commenti Perché stiamo andando bene E anche un campionato Abbastanza appassionante Perché Può succedere di tutto Un bel like Un commento Una cosiddetta iscrizione Per sopportare la serie del canale Io come sempre Ragazzi Voglio bene Vi aspetto domani Con dei nuovi fantastici video Ciao Ciao